Sì, mi ha fatto un'altra mamma, una mia bella, un'altra bella e un'altra, un'altra. E' un grande amore che è un'altra, siamo con giusta, siamo con giusta. Siamo con giusta, siamo con giusta. Accattola la teglia, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. E' un momento di cantare, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Bene, allora dopo questo momento cosa... Sicuramente è un momento che fa oggi, le cose sono felici perché è un lavoro che... Questo è un cocello da tre anni e mezzo, insomma, il manager, lo registrarci. Sono davvero felice e contenta che possa arrivare nelle case a questo scenario. Un messaggio per i giovani che ci stanno. Ma bisogna notare sempre. Bisogna studiare, crederci, e sognare. Perché insomma, possiamo... Bianca, mi puoi dire e mi prego, veloce. Vai! Una canzone. Ci serve. Vuoi leggere la tua vita? 5-6 minuti, che fregno. Grazie. Vai? Grazie. Adio.